Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di un caso che è avvenuto sempre nella nostra bella Italia. È appena passata la guerra, è il 1946 e siamo a Milano. Più precisamente ci troviamo in via San Gregorio, una via laterale di via Buenos Aires. Questa è la storia di Caterina Ford, una donna che esprime una vera e propria ossessione per un uomo. Un uomo che lei è convinta sia scapolo, ma in realtà così proprio non è. Ma partiamo dalla zona in cui è accaduta questa tragedia, ossia via San Gregorio. Via San Gregorio a Milano non è assolutamente una via qualunque. E infatti fa parte del quartiere di Porta Venezia, durante la guerra con la zona dei mercanti. Ed è abitata prevalentemente da ebrei. In quanto quando si è scatenata la guerra nelle terre occupate dai tedeschi, è iniziata anche la caccia alla gente israelita. Di conseguenza profughi di ogni paese si concentrano proprio su quella zona di Milano. Poi anche Milano, così come l'Italia, diventa un paese infido per gli ebrei. Qualcuno riesce a fuggire in Svizzera ed il quartiere di Milano si svuota di colpo. Poi ecco che si ripopola nuovamente da persone provenienti dal meridione. Gente che fugge dalla guerra, dalla miseria e dalla fame per trovare un po' di spazio ed un'illusione di sicurezza nella grande metropoli. Milano. Dovete sapere che a quel tempo c'è carenza di qualsiasi cosa, anche di tessuti. Così ecco che ci si arrangia come si può. Tutte le persone che dal sud si sono spostate al nord impiantano aziende o negozi. I vari appartamenti sfitti diventano dei magazzini. Ed inevitabilmente la zona di San Gregorio diventa un centro attivo del mercato nero. I commerci non sono sempre chiari in quanto ci sono un sacco di persone che vivono alla giornata. Improvvisando ovviamente per riuscire a sopravvivere. Arriva il 1945, la seconda guerra mondiale termina. Ma questo tipo di commercio non chiaro continua ad esistere. Però c'è da dire che molti hanno dovuto fare i conti con la realtà. I tempi della barahonda stanno giungendo al termine. E la polizia torna ad avere tutti gli uomini per fronteggiare le persone irregolari. Di conseguenza il contrabbando non può più essere fatto alla luce del sole. Però c'è chi nel pieno della guerra ha voluto rischiare. Implantando un'attività e pensando più al futuro che al presente. Ed ecco che via San Gregorio inizia a mutare perché i cosiddetti balordi, quelli che facevano i furbetti, diciamo così, si sono tutti quanti dileguati nel nulla. Via San Gregorio così è diventata una strada molto trafficata. È piena di empori, stoffe e manufatti. Nei negozi è possibile vedere delle belle commesse con dei grossi brillanti sulle dita. Ed è proprio qui che purtroppo si consuma la tragedia. Perché questo diventa il primo crimine ferato dell'imminente dopoguerra. Arriviamo quindi a quel tragico giorno. È la mattina del 30 novembre 1946. È venerdì, ci troviamo a Milano e la luce quel giorno è grigia, opaca. Piove e fa pure freddo a Milano quel venerdì. È mattina e nelle case le luci accese dagli operai che si sono svegliati presto per andare a lavoro si spengono quasi tutte contemporaneamente. Tranne una. Perché un appartamento in un corso laterale di via Buenos Aires, più precisamente in via San Gregorio, ha la luce accesa. Aerea ripassanti appare davvero strano. In tempi come quelli è mai possibile che si sprechi così la corrente inutilmente? In ogni caso, come ogni mattina, la signora Giuseppina Somaschi Pinuccia deve andare a casa di una famiglia, la famiglia Ricciardi. Col fine di prendere le chiavi del negozio di stoffe gestito proprio da Giuseppe Ricciardi, netto Pippo. Lui è il capofamiglia. Anche Giuseppina, quando passa di lì, nota la luce accesa e in effetti pensa Ma che spreco! Certo che questi meridionali non riescono proprio ad abituarsi alla luce di Milano. Ed in effetti la signora Franca Ricciardi, moglie del proprietario di un negozio di stoffe, si è trasferita da poco a Milano, dalla Sicilia, per raggiungere suo marito. Che è riuscito a mettere in piedi quel negozetto di stoffe. Comunque Giuseppina non è che ci faccia molto caso, inizia a seguire le scale col fine di recuperare le chiavi. Ma da subito qualcosa assolutamente non va. Quella mattina la porta d'entrata di casa Ricciardi è aperta. Ma Giuseppina Somaschi Pinuccia prova a darsi delle spiegazioni prima di attraversare quell'entrata. Pensa, forse la signora Ricciardi è scesa per prendere del pane e del latte. Quindi bussa con discrezione la porta e inizia ad entrare in punta di piedi. Appena Giuseppina mette i piedi in quella stanza si rende conto che c'è davvero qualcosa che non torna. Sospira e una nuvola di fumo le esce dalla bocca. In quell'appartamento fa freddissimo. Pare quindi che la porta d'entrata non sia rimasta aperta solo per poco tempo, bensì per tutta la notte. Giuseppina quindi fa qualche passo e dinnanzi a lei si palesa uno scenario davvero raccapricciante. A terra, poco lontano dall'ingresso, c'è il corpo di una donna. Ha indossato una pelliccia. È riversa al suolo in una pozza di sangue e quella signora è proprio Franca Ricciardi. Se ci avviciniamo un po' ci rendiamo conto che la donna è venuta a mancare a causa del cranio che è stato fracassato. Per di più Franca deve essersi difesa per forza in qualche modo perché tra le mani stenge una ciocca di capelli corvini. La famiglia Ricciardi ha dato alla luce tre figli. Giovannino, Giuseppina e infine Antoniuccio che è il più piccolo. E tutti hanno fatto la stessa tragica fine di loro madre. Giuseppina su maschini quindi corre al di fuori dall'appartamento. Inizia ad urlare frasi sconnesse, non chiare, urla di aver visto sangue e tanto sangue. Poi urla morte, morte e poi sviene. Quando Giuseppina torna in sé trova davvero tante persone all'interno dell'appartamento dei Ricciardi. Vi sono giornalisti e fotografi. Davvero tanti fotografi. Scattano le foto della scena del crimine senza il minimo pudore. Osano anche spostare i corpi delle vittime per farli rientrare in tutte le inquadrature. C'è anche un cineoperatore che riprende tutto. I corpi, la casa messa su quadro. Il crimine viene ritratto nei minimi particolari. Questa è la prima spettacolarizzazione indiretta di un caso di cronaca nera. Un orrore così simile non si è mai visto prima. E quindi sono sufficienti un paio d'ore per diffondere il panico in tutta la città di Milano. La città letteralmente si ferma e nel primo pomeriggio escono i giornali che riportano la notizia. Via San Gregorio è invasa di persone. Tanto che le forze dell'ordine dinanzi al civico 40 tentano di contenere la folla che è totalmente impazzita. Ma poco dopo a Milano inizia a diffondersi la paura. Quella di essere sorpresi e violati nel luogo che tutti identificano come un luogo sicuro. Ossia la propria casa. A questo punto la polizia con tutta la calma del mondo entra in questo appartamento. E finalmente inizia a guardarsi intorno col fine di indagare. Si presume che il crimine sia avvenuto la sera del 29 novembre. Verso le 21 circa. Però c'è una cosa che non torna. Il capofamiglia non c'è. Manca l'appello. Che sia colpa di Giuseppe Ricciardi? È lui il colpevole? E quale mai potrebbe essere il movente? Passano pochi minuti. E si viene a scoprire la verità. Giuseppe Ricciardi è a Prato per affari. E di quello che è accaduto ai suoi cari non sa proprio nulla. A questo punto gli inquirenti provano a cercare ennesime tracce nell'appartamento. La casa è tutta sotto sopra. Inoltre in camera da letto vengono trovati sei astucci vuoti. Che in precedenza contenevano sicuramente dei preziosi. Evidentemente sono stati rubati. Un giovane agente quindi si domanda ad alta voce. Ma quindi questa è una rapina finita male? Ma il commissario Nardone che dirige le indagini lo guarda appena. Poi torna ad osservare la stanza. Arriva in cucina e si rende conto che sul tavolo ci sono trabicchieri e una bottiglia. Uno dei trabicchieri è pieno d'acqua ed è in tonso. Mentre gli altri due sono vuoti. Però sono sporchi. Il commissario Nardone a questo punto conclude La vittima conosceva il criminale. Perché l'ha fatto entrare in casa e gli ha offerto un rosolio. Per esattezza il rosolio è una soluzione liquorosa. Diffusa soprattutto in campagna, in Piemonte ed in Sicilia. In realtà in Sicilia è circa dal 500 che lo si produce in casa per poi offrirlo agli ospiti in segno di buon augurio. Il rosolio è preparato con alcol, zucchero e acqua nella stessa proporzione. In più poi ha un'essenza che gli dà il nome. Di conseguenza esiste il rosolio alla menta, il rosolio alla rosa eccetera eccetera. Il commissario quindi si avvicina e prende un bicchiere. Lo osserva attentamente. Ci sono delle tracce di rossetto su uno dei due bicchieri. E la padrona di casa, il rossetto, non era assolutamente solita metterlo. E quindi quella macchia di rossetto su quel bicchiere, in realtà, di chi è? Il commissario dopo aver notato questa cosa del bicchiere, appoggia poi lo sguardo a terra. E nota una foto, una foto strappata. Il commissario quindi la mette insieme. E si rende conto che quella foto ritrae Franca con suo marito il giorno del loro matrimonio. Ben presto il commissario Nardone non ha dubbi. Quello è un crimine passionale. Perché quel crimine non può che essere il gestore di una donna umiliata. Una donna accicata dall'odio e dalla gelosia. E infatti cinque minuti dopo, a finire in manette, è una donna di nome Caterina Fort. Ma perché la colpa sarebbe sua? E poi chi è Caterina Fort? Come al solito, facciamo un passo indietro. Caterina, detta Rina, è nata il 28 giugno del 1915, tra le colline di Santa Lucia di Budoia, nella provincia di Pordenone. Quella di Caterina è una famiglia contadina, povera e numerosa. Infatti lei è l'ultima di sei figli. Arriviamo nel 1927, quando accade qualcosa di davvero terribile. La casa dei Fort viene colpita da un fulmine. Da quel fulmine si crea un incendio. E i Fort, da quell'incendio, si salvano per miracolo. Questo, di fatto, per Caterina è il primo evento a turbarla davvero. E infatti da questo momento ha terrore del fuoco e dei temporali. E in effetti Caterina, a temere i temporali, fa bene. Perché quel fulmine che le ha distrutto casa, colpirà di nuovo la sua vita, sempre in forme diverse. Distruggendo tutto ciò che, di bello, Caterina proverà a costruire durante la sua esistenza. Caterina quindi cresce, è una ragazzina abbastanza irrascibile, impulsiva, ma è anche molto intelligente e tenace. Arrivano i 13 anni per Caterina. E accade un qualcosa che la segnerà davvero per tutta la sua vita. La ragazzina è in montagna, a far legna con il suo papà. È solita farlo e le piace anche molto. Ma quel giorno Caterina è un po' stanca e quindi rimane indietro. Suo padre ha già saltato un piccolo burrone, ma lei, quando si trova dinnanzi a quello strapiombo, si blocca di colpo. È davvero paralizzata dalla paura e quindi guarda suo padre. E gli dice disperata, Papà, papà, aiutami, ti prego, non ce la faccio, io proprio non ce la faccio. Suo padre allunga una mano, incoraggiandola, dicendole, e dai Caterina, basta un passetto, un saltello. Questo è niente in confronto a tutte le volte che siamo usciti per far legna. È un saltellino, dai Caterina, ce la fai. Ma la ragazzina resta immobile. Suo padre quindi si allunga con l'intento di afferrarla, ma Caterina, di scatto, si fa indietro. È un gesto totalmente istintivo, perché Caterina di quello strapiombo ha davvero, davvero paura. E così suo papà perde l'equilibrio. Con un movimento cerca di tenersi su una roccia per non cadere, ma purtroppo non ci riesce. E cade nel vuoto. La ripartita di suo padre per Caterina è un trauma così tanto grande. E crescendo inizia ad avere delle crisi dolorose. Ha spesso mal di pancia e quel dolore si estende fino alle ovaie. Questi dolori purtroppo sfociano in un terribile problema, perché Caterina, raggiunta la pubertà, inizia ad avere delle disfunzioni ovariche così tanto importanti che l'utero termina di formarsi. Questa è una malformazione detta ipogenitalismo. L'utero quindi smette di svilupparsi e Caterina è colpita da un'altra disgrazia. Non può essere madre. Non può mettere al mondo i figli, in quanto è sterile. Ma arriva la primavera del 1931 e Caterina arriva a Milano. Vuole assolutamente lasciarsi alle spalle la sua terra, la sua vecchia vita, per poter rincominciare da capo. Inizia quindi a fare la donna addetta ai lavori domestici in una famiglia altolocata. E ben presto conosce un ragazzo, innamorandosi di lui. E quando il ragazzo le chiede la mano, Caterina non può che esclamare un sì, lo voglio. Poi però Caterina fa un grosso errore. Ovviamente se pensiamo all'epoca in cui si svolge questa storia, chiariamo. Perché che cosa fa Caterina? Si concede a lui prima di sposarlo. Ovviamente Caterina pensa che non ci siano problemi, d'altronde si sarebbero sposati presto. Se non fosse che quel ragazzo che Caterina tanto ama, si amara di tubercolosi e viene a mancare. Ed ecco che nella vita di Caterina scoppia un altro fulmine, lo stesso fulmine che ha distrutto la sua casa quando era piccola. In questo caso, peraltro, la shagura è doppia, in quanto non solo ha perso l'uomo che ama, ma anche la sua virtù. Caterina quindi cerca di ricomporsi, piano piano riesce a riprendersi e capisce che il suo corpo in effetti è apprezzato dagli uomini. Sa quindi che deve usarlo, se vuole avere controllo su di loro. Caterina arriva a 27 anni, ed è in piena guerra quando decide di sposarsi. Perché le persone attorno a lei dicono Caterina, ormai è troppo tardi. A dirtela proprio tutta, avresti dovuto sposarti anche prima. E quindi Caterina sposa un uomo della sua terra di nome Giuseppe Benedetti. Caterina, quell'uomo, quasi non lo conosce. Però ha capito che è un tipo un po' strano. Ma non può assolutamente immaginare a che livello arrivi la sua stranezza. Arriva quindi il matrimonio, subito seguita dalla prima notte di nozze. Caterina non ha tempo di pensare a quanto sia strano il suo novello sposo. Perché è tisa. È tisa da morire. Non sa come Giuseppe potrebbe prendere la sorpresa che da lì a poco avrebbe scoperto. Perché Caterina non ha detto a nessuno di aver perso la sua virtù. Ma in realtà, a rimanere basita quella notte, è proprio Caterina. Infatti, quando arriva il momento, c'è solo una boggiore acceso. E Giuseppe, preso da uno strano raptus, la lega al letto, si spoglia per poi indossare i suoi indumenti. Quindi indossa reggiseno, mutande, calze, giarrettiere, e infine la gonna. Vestito in quel modo, con gli occhi da fuori di testa totale, inizia ad autoflagellarsi. E poi, fa del male a Caterina. Il mattino dopo, Giuseppe viene chiuso in manicomio. E la colpa della sua follia è data proprio dalla sifilide. Caterina di nuovo si sente sconfitta. Perché un ennesimo fulmine si è abbattuto sulla sua vita. Però Caterina, come vi ho già detto, è tenace. E quindi, poco dopo, si rimette in sesto e torna a Milano. Dove, ovviamente, chiede la separazione legale. Nella vita di Caterina arriva la vera svolta. Un mattino del 1945, quando entra in un bar tra Via Lazzaretto e Piazza Cincinnato, col fine di far colazione e bere un semplice caffè. Appena Caterina entra nel bar, nota un uomo al bancone. Ha in mano anche lui una tazzina, sta bevendo del caffè e rimane letteralmente folgorato dalla bellezza di Caterina. Caterina ha dei folti capelli neri e delle labbra carnose. E quindi, Giuseppe Ricciardi proprio non riesce a resistere e inizia a corteggiarla. Giuseppe quindi prova ad attaccare il bottone dicendo, signora, posso offrirle un caffè? La signora risponde facendo finta di essere leggermente offesa. Ma come si permette? Io sono una signorina, mica una signora. A questo punto, Giuseppe Ricciardi ha capito, ha raggiunto il suo obiettivo. Quella donna con quella folta, chioma, corvine e vaporosa non è impegnata. Quindi Giuseppe infila di nascosto la mano nella tasca dei pantaloni sfilandosi la fede nuziale per poi esclamare Ma che fortuna! Anche io sono scapolo, sa? Caterina, il gesto di Giuseppe non l'ha notato. È troppo impegnata a fare la parte di quella disinteressata. Quindi il suo sguardo si sposta dall'uomo all'intero bar, si guarda attorno, insomma, finge di non essere interessata. Ma Giuseppe Ricciardi non molla perché più la guarda più rimane ammalliato da Caterina e quindi le racconta di essere un commerciante di stoffe per ora ambulante. Ma adesso che le cose sembrano girare meglio, della rinascita e della libertà. Infatti, il suo intento è quello di aprire un vero e proprio negozio di stoffe. Caterina continua a fingersi disinteressata però lo ascolta con attenzione. Pensa che Giuseppe non sia un gran che bello e a dirla tutta non appare neanche così tanto intelligente o interessante. Ormai Caterina è alquanto disinteressata dagli uomini però Giuseppe parla di affari, parla di ottimismo, di ricchezza a venire ma soprattutto cerca una commessa. La donna alla fine ha un sogno. Vuole sistemarsi e raggiungere la rispettabilità diventando una vera e propria signora. Caterina vuole una stabilità economica e quindi ben presto i due vanno a vivere assieme in un appartamento in via Mauro Macchi non distante dalla grande stazione centrale di Milano. In effetti Giuseppe Ricciardi apre davvero un negozio di stoffe in via San Gregorio e assume Caterina come commessa. A questo punto Caterina si rende conto che nel tempo nel suo cuore nasce un vero e proprio sentimento e infatti Caterina alla fine svela a Giuseppe Ricciardi tutta la verità. La sua vita matrimoniale e Caterina tema che forse dopo quella confessione Giuseppe non voglia più vederla. Però in realtà Giuseppe non la colpevolizza affatto anzi la abbraccia. Non le dice che è stata una sconsiderata a perdere la virtù con un uomo non ancora sposato anzi le sussurra all'orecchio tranquilla io ti amo il resto Caterina lo risolveremo assieme. Per salvare quindi le apparenze la coppia dice di essere marito e moglie visto che vivono assieme. Caterina formalmente come già vi ho detto nel negozio di Giuseppe Ricciardi fa la commessa ma fin da subito in realtà è lei a gestire quel negozio e Giuseppe Ricciardi la lascia anche fare perché nota che è brava. L'unico problema che c'è nella coppia in effetti è il rapporto di Caterina con le cose briconcelle. Non c'è verso Caterina non vuole è perennemente spenta Giuseppe però è un uomo molto passionale sempre a caccia di nuove fiamme e Caterina nonostante non sia felice della situazione si rende conto di avere dei limiti e sono dei limiti oggettivi e quindi accetta in silenzio butta giù il boccone amaro pensando ha 31 anni e senza avere figli non posso certo pretendere di meglio. Tutto sommato pensa Caterina l'è andata bene fino a quando però non si spinge oltre. Infatti decida di mettere Giuseppe alle strette dicendogli non mi basta più vivere così insieme sposiamoci davvero. Ma Giuseppe è sfuggente Caterina non capisce ma ben presto salta fuori l'inganno quando un conoscente di Giuseppe la ferma per strada e facendo quattro chiacchiere le fa un'innocente domanda ma fammi capire quindi Ricciardi ha lasciato mogli e figli per mettersi con te io so che ha mogli e figli a Palermo Caterina quindi capisce capisce che Giuseppe nonostante viva con lei e finga di essere suo marito in realtà a Palermo nella sua terra d'origine ha già mogli e figli e di nuovo Caterina si sente un totale fallimento tutta la favola che si era creata nella sua testa le crolla addosso e di nuovo un fulmine si abbatte sulla sua vita Giuseppe però a questo punto la rassicura le dice che sì è vero ha mogli e figli ma stanno in Sicilia sono lontani Giuseppe le dice io invece sono qui con te Caterina e ci tengo io non voglio perderti Caterina a questo punto si ritrova a un bivio dovrebbe accettare questo compromesso quello di stare con un uomo sposato oppure dovrebbe tornare ad una vita vuota fatta di nulla senza una casa né un lavoro a questo punto Caterina come con le numerose amanti di Giuseppe tace acconsente perdona ingoia la delusione e continua a stare con lui arriva ottobre il freddo a Milano inizia a farsi sentire e il cielo è grigio come al solito Caterina è imbellettata e sta pigiando le sedite sottili dalle unghie smaltate alla casa del negozio quando succede l'imprevisto la camparella del negozio suona sta entrando un cliente quindi Caterina alza la testa con un sorriso cordiale le si para dinanzi una donna bassina mal vestita e per di più ha una peluria sopra le labbra che per lei è inconcepibile cosa mai ci fa una donna del genere nel negozio ma appena quella donna mette piede nel negozio ecco che Caterina riesce a intravedere tre figli quella donna è pure incinta e a quel punto Caterina capisce perfettamente chi sia quella donna che poco dopo parlando a bassa voce dice buongiorno sono la signora Ricciardi Franca la moglie di Giuseppe e questi sono i suoi tre figli Caterina a questo punto non ce la fa più vede letteralmente rosso e inizia a strillare questo non è proprio possibile è inaccettabile è troppo e non lo posso sopportare cosa ci fa qua come diavolo si permette e così Caterina caccia Franca malamente dal negozio urlando via via fuori da questo negozio Franca torna in strada e subisce l'affronto in silenzio ma sicuramente non si scoraggia perché ora tra le due ossia tra Franca e Caterina è guerra ma alla fine Giuseppe Ricciardi che è un uomo alquanto deboluccio torna con la coda tra le gambe dalla moglie lasciando ovviamente Caterina inoltre la licenzora al negozio dandole 60 mila lire di liquidazione ormai Giuseppe Ricciardi ha deciso di non fare più il furbetto in giro ma di mettere la testa a posto occupandosi effettivamente della sua famiglia Caterina piano piano perde totalmente il nome della ragione i giorni iniziano a ripetersi e a non passare mai e la vita che ha messo in piedi con tanta tanta fatica è di nuovo in frantumi la donna continua a pensare alla frase che Giuseppe le ha detto prima di lasciarla ossia è la madre dei miei figli le devo portare rispetto e devozione ed ora che ha addirittura un altro piccolino in pancia non posso darle pena passano i giorni Caterina pensa sempre di più a quella frase che le ha letto Giuseppe e arriva a provare un odio viscerale per sua moglie Franca la donna che le ha portato via tutto quello che è riuscita a costruire quella che con una manata è riuscita a distruggere tutto quanto tutta la sua esistenza Caterina però ovviamente nel frattempo deve tentare di sopravvivere quindi trova un altro lavoro sempre come commessa e ovviamente trova un'altra casa però c'è un fatto Caterina purtroppo nel quartiere diventa oggetto di cattive chiacchiere e di petegolezzi Caterina cammina per strada e sente la gente bisbigliare se sì altro che la signora Ricciardi quella lì era solo l'amante e hai visto la moglie come l'ha rimessa al suo posto ma per Caterina vivere quel tipo di vita a un certo punto diventa una vera vergogna si sente svilita umiliata e la sua rabbia continua a crescere a dismisura fino a quando non arriviamo alla sera del 29 novembre del 1946 Caterina ha finito di lavorare alle 18 ha chiuso la pasticceria in cui ora fa la commessa e in quel momento le strade sono effettivamente deserte non c'è nessuno in giro quindi non sente alcun vociare maligno attorno a sé però continua a pensare a Giuseppe Franca non riesce proprio a toglierseli dalla testa pensa alla sua vita tutte le vicissitudini che ha dovuto sopportare superare e si chiede come si è arrivata a vivere una vita così tanto solitaria poi biasima la sua bellezza quella bellezza che ha pensato fin da subito fosse un'arma vincente sta sfiorendo ogni giorno che passa è vero Caterina non è più bella come un tempo però si rende conto che la sua bellezza è anche stata la sua croce e camminando sopra pensiero la donna si rende conto di essere finita proprio sotto casa dei Ricciardi alza la testa è nota la luce accesa della casa al civico 40 la casa in cui Giuseppe si è sistemato con la sua famiglia proprio sopra il negozio di stoffe Caterina inizia a pensare che la sua vita sia davvero inutile si sente da buttare via non c'è più nulla che la rende felice e quindi forse pensa la donna l'unica cosa da fare è sparire tra la nebbia di Milano ma non per tornare al suo paese Caterina pensa proprio di farla finita però come al solito riemerge la tenacia della donna che al posto di lasciarsi andare e farla finita decide di fare una cosa entra nel palazzo in cui vive la famiglia Ricciardi sa che Giuseppe è via per lavoro e quindi in casa c'è solo Franca sua moglie con i figli e quindi Caterina entra in quell'appartamento sale le scale e poi suona pensa di arrivare a un compromesso un qualcosa però quando Franca le apre la porta probabilmente il primo istinto è quello di sbattergliela in faccia però Caterina scoppia a piangere lei chiede di parlare le dice che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbe vista in giro e Franca che sicuramente è una donna dura ma ben educata fa entrare Caterina in casa la fa comodare in cucina e le offre un bicchiere di rosolio e Caterina quindi inizia a parlare inizia a parlare con Franca le spiega l'enorme amore che prova per Giuseppe le racconta tutta la verità le dice che Giuseppe mentre stava con lei ha fatto più volte il furbetto con altre donne le racconta anche che inizialmente Giuseppe suo marito le aveva detto di essere scapolo mica sposato quindi Caterina dice a Franca che non aveva idea della sua esistenza e quindi Caterina dice a Franca che non è sua intenzione assolutamente rovinare in qualche modo la sua famiglia ma il suo cuore è letteralmente infrantumi però ragazzi qua arriva un fatto non possiamo sapere se Caterina ha chiesto a Franca un compromesso lo stesso compromesso che Giuseppe ha chiesto a Caterina quando ha scoperto dell'esistenza di sua moglie ma di una cosa possiamo essere certi la discussione tra Franca e Caterina non si conclude bene iniziano quindi a urlare parole pesanti insulti le due donne si prendono per i capelli iniziano a spingersi e Franca resa goffa dal pancione caglia a terra Caterina a quel punto trova una spranga da qualche parte e inizia a colpire colpisce colpisce e colpisce colpisce tutte le persone presenti in quella casa appena conclude il suo macabro piano scappa nel sottoscala però pare che nessuno abbia notato il baccano infatti i vicini continuano le loro conversazioni come se nulla fosse Caterina quindi si ridesta deve assolutamente trovare un modo per passarla liscia torna quindi a casa Ricciardi mette tutto quanto in disordine e ruba dei gioielli proprio per simulare una rapina finita male poi si rende conto che nonostante abbia colpito tutti in quella casa nessuno è ancora passato a miglior vita Caterina quindi decide di soffocare le varie vittime infilando loro in gola degli stracci usati al tempo come assorbenti Caterina Forte ha colpito con la furia di una belva e poi come se nulla fosse successo torna a casa sua una volta arrivata a casa pensa che dovrebbe decisamente cucinarsi qualcosa perché quel crimine che ha compiuto non le ha di certo guastato l'appetito arriva quindi il 30 novembre del 1946 tutti i milanesi sono in strada per commentare quell'atroce crimine tutti si chiedono chi possa mai essere il colpevole e in effetti Caterina Forte è nella pasticceria dove lavora sta servendo dei clienti e sorride cordiale gli agenti di polizia di conseguenza entrano nel negozio la raggiungono e le fanno qualche domanda e in effetti Caterina pare essere a conoscenza del crimine accaduto alla famiglia del suo ex datore di lavoro però c'è un fatto sembra proprio che non gliene importi un fico secco gli agenti che già non la vedono di buon occhio decidono quindi di arrestarla appena Caterina è in manette cambia totalmente diventa improvvisamente fredda muta e impassibile una volta arrivata in commissariato la donna nega tutto continua a rispondere in modo docile io non mi sono mai mossa da casa deve credermi stavo ascoltando la radio quella sera e poi ripete fino allo sfinimento che il rapporto che ha avuto con Giuseppe Ricciardi è stato solo un rapporto lavorativo arriva il giorno dopo è il primo dicembre quando Giuseppe Ricciardi torna da Prato trovando casa sua transennata e una folla immensa davanti al suo portone appena prende la notizia uno dei suoi amici siciliani gli dice è stata Rina quella strega Giuseppe Ricciardi quindi va alla stazione di polizia e appena vede Rina piuttosto che rimproverarla piuttosto che insultarla piuttosto che dirle ma che diavolo hai fatto la abbraccia le sussurra qualcosa all'orecchio come un grazie e poi la bacia quello è l'ultimo bacio che i due si scambieranno intanto Dino Buzzati che è uno scrittore che io amo da morire e peraltro se non l'avete mai letto io vi consiglio assolutamente di leggere la raccolta di racconti La boutique del mistero a mio parere quella raccolta di racconti di Dino Buzzati è decisamente la raccolta di racconti più bella che io abbia mai letto in ogni caso Buzzati scrive sul Corriere della Sera al di là al di là della più sfrenata perversità restava pur sempre un largo margine di sangue che nessun odio poteva giustificare la misura stessa dell'uomo ne risulta alterata quale noi la conosciamo da secoli pur con tutte le sue possibili abiezioni di cui lo spavento qualcun altro diverso da noi era necessariamente intervenuto l'altra sera un personaggio delle tenebre vogliamo dire proprio come in certe storie antiche il medesimo forse che da troppo tempo va infestando le nostre contraghe un giorno o l'altro chi può escludere che si affacci anche alla nostra porta non si può mai giurare egli gira invisibile covando il male e non sarà mai stanco bisogna scovarlo occorre togliergli l'aria intanto passa il tempo e Caterina si convince se è giusto parlare non può essere vista solo lei come la cattiva il mostro della situazione no proprio non ci sta peccato che le versioni dei fatti che fornisce Caterina sono benotto sono diverse e ogni storia è arricchita da un sacco di particolari troppi particolari che tutto sommato risultano anche bizzarri Caterina esagera si fa prendere la mano e ben presto gli inquirenti capiscono che sta mentendo alla grande ed è proprio in questo modo che Caterina terminata la guerra con Franca ossia la moglie di Giuseppe si ritrova in guerra poi con Giuseppe il suo ex amante perché tra le tante versioni che ha dato la donna sostiene che Giuseppe in realtà era a conoscenza di tutti i fatti anzi erano proprio d'accordo lui infatti è partito per Prato proprio col fine di farle commettere quel crimine che lui debole com'è non ha mai avuto il coraggio di compiere Giuseppe giunto a conoscenza delle confessioni di Caterina ovviamente le volte alle spalle si arrabbia si arrabbia da morire e anche lui inizia a puntare il dito verso Caterina dicendo io non le ho chiesto di fare proprio niente ha fatto tutto da sola non le è bastato far sparire tutta la mia famiglia ora mente pure sul mio conto ebbene Giuseppe ha una gran ragione e infatti arriva il 10 gennaio del 1950 Caterina Fort la belva di San Gregorio è dietro le sbarre e davanti a lei c'è la corte d'assisi di Milano e nonostante Caterina si sia impegnata davvero per far nascere dei dubbi agli inquirenti su Giuseppe lui resta un uomo libero infatti non è mai stato incriminato di nulla Caterina quel giorno il giorno del processo appare pallida il volto è coperto per metà da una sciarpa così come le mani sono coperte da dei guanti durante il processo viene affidata le cure psichiatriche del signor Filippo Saporito che la sottopone a perizia psichiatrica nel manicomio criminale di Aversa dove viene tenuta in osservazione per alcuni giorni alla fine Filippo Saporito reputa Caterina sana di mente di intelligenza superiore alla media e soprattutto in grado di intendere e di volere e infatti Filippo Saporito scrive piena responsabilità degli atti ad essa scritti e da sola compiuti con una ferratezza sconcertante in un essere umano arriva quindi la lettura del verdetto e Caterina Forte è condannata a Ergastolo il 9 aprile del 1952 la condanna viene confermata dalla corte d'assese d'appello di Bologna e diventa definitiva dopo il pronunciamento l'anno successivo dalla Cassazione Caterina Forte viene rinchiusa nella prigione fiorentina di Santa Verdiana e ci rimane fino al 1975 a 60 anni la belva di San Gregorio viene scarcerata di anni ne ha scontati solo 29 va a vivere in un appartamento in via di mezzo a Firenze nel quartiere popolare Sant'Ambrogio in carcere la donna trova anche marito quindi cambia cognome e prende quello di Benedetto ai giornalisti che riescono a rintracciarla ripete fino allo sfinimento che quella notte quei bambini lei non li ha mai toccati molti pensano che Caterina non sia stata la sola a compiere quel crimine molti pensano che avesse un complice quella sera ma a questo punto non potremo mai sapere la verità questo a tutti gli effetti resta un mistero in quanto la donna viene a mancare il 2 marzo del 1988 viene trovata a letto stroncata da una crisi cardiaca 4 anni prima a Catania in totale solitudine è venuto anche a mancare Giuseppe Ricciardi detto questo ragazzi io ho finito di spronochiare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento se vi va scrivetemi qui sotto tutto quello che pensate di questo caso noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi ma soprattutto continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi e ciao ragazze ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi